Svolta sulla sicurezza, da oggi il taser sarà utilizzato anche a Vicenza in dotazione agli agenti delle volanti e del nucleo radiomobile dei carabinieri. Si tratta di una pistola a impulsi elettrici che permetterà di intervenire in situazioni di emergenza per gestire soggetti aggressivi, esagitati, armati di coltelli o bastoni. Dispositivo che emette impulsi elettrici proiettando a corto raggio una copia di dardi che rimane collegata a fili conduttori e che immobilizza temporaneamente, mediante la contrazione involontaria dei muscoli, il soggetto bloccandolo. Si tratta di un'arma in dotazione di reparto, sottolineo che è un'arma non letale, che però è assolutamente utile come deterrente proprio per evitare che determinate situazioni che in passato hanno portato ad aggressioni fisiche nei confronti degli agenti di polizia e nei confronti anche dei cittadini, possono essere evitate appunto con l'utilizzo di questo strumento. Strumento che nella gran parte dei casi ha una deterrenza preventiva, basta cioè che il malintenzionato lo veda per fermarsi. Dispositivo di difesa e protezione per gli operatori che spesso vengono aggrediti o feriti nell'ambito degli interventi. Basti pensare che ai danni dei militari dell'arma in provincia di Vicenza da gennaio 2021 ad oggi ci sono stati 28 arresti e 63 denunce per resistenza pubblico ufficiale. Arma da oggi usata in città ma che nei prossimi giorni sarà in dotazione a poliziotti e carabinieri anche nel resto della provincia. È iniziata la distribuzione intanto alla sezione radiomobile della compagnia di Vicenza e poi gradualmente verrà distribuito anche l'aliquote alle sezioni radiomobili della compagnia di Bassano, Tiene, Schio e Valdagno. Quindi in modo tale che tutte le radiomobili abbiano a disposizione questo importante strumento di deterrenza.